musica salve a tutti ragazzi qui è Zerk e benvenuti in questa nuovissima puntata di gear up e come al solito mi ha fatto il bug che non si vede più la freccia che diamine sto cliccando a caso si vede ok ci siamo stiamo perdendo come al solito no no stiamo in vantaggio zitti zitti che questa è forse la volta buona che abbiamo oh quanti quanti razzi ho visto ah li ho buttati nella mischia stavamo in vantaggio adesso stiamo perdendo di nuovo come sempre va bene questo non ci non ci mortifica ciò di conquistare questa base perché stiamo in più oh ce ne è uno ok l'ho fatto pure bam shbam razzi colpito sedici punti venti punti sedici punti prima che sale sopra bam altri venti trentadue venti oddio è salito sopra ma puoi cadere anche giù eh nell'acqua bam distrutto metti contro e bam distrutto anche questo ci sto prendendo un po' più la mano anche se non ho ancora le armi buone però bene ma l'ho capito come funziona oh che cacchio non mi ha fatto niente ho vinto tutte le armi ho vinto tutte le armi sto morendo se mi colpiscono sono morto prendiamo le armi e cura ok ci servirebbe qualche altra cura perché abbiamo sono troppo ho 28 punti scura bam questo lo colpiscono dietro va ci siamo distrutti a vicenda va bene non fa niente però però stiamo in vantaggio in netto vantaggio in netto vantaggio e questa è cosa buona e giusta bam bam quanto è forte questo arriva un altro abbiamo vinto le armi abbiamo ancora i razzi bam distrutto grandissimo prendiamoci delle armi ok abbiamo di nuovo tutti i proiettili pieni un po' di cura che non fa male ottimo siamo di nuovo al 100% prenderei questo che non ho mai capito cosa serve penso che aumenti la potenza delle armi ah distrutto ho shottato oh cacchio si è bloccato il game sono troppo forte faccio bloccare il game ma chi è questo distrutto in volo ce n'è uno è nato una specie di laser ah mi distrutto vabbè mi danno la mano anche di amici non è tutto merito mio si vorrebbe conquistare la base non la farai mai andiamoci con la base oh cacchio sfido l'arma ecco perché fa questi rumori strani riprendere i proiettili e si adesso oh erano in due anzi in tre stanno riprendendo le basi ma dai un altro sforzo ragazzi un altro sforzo abbiamo vinto un altro poco quello là sopra vittoria tre punti e un altro archivio ma sbloccato grande ragazzi a dire la verità mi sto incominciando a divertire molto di più più si va avanti anche se ancora non ho sbloccato nessun armamento particolare però quando iniziai a entrare in un gruppo in cui bene o male trovi persone ehm alquanto brave diciamo dai che ti danno una mano cioè si forma il gruppo quindi per questo voglio voi qui per formare un bel gruppo e distruggere chiunque si ponga davanti al nostro cammino ma chi è ma chi è ma chi è che parla così ma chi sei non la sa ottimo andiamo a conquistare le prime fasi ma ah pure compare a spaziatrice anche compare a spaziatrice spara non lo so avevo pensato che saltavano ma se il gioco oh un nemico oh l'arma da cerchino potente quello che abbiamo visto un colpo di una sciotta proprio aspettiamo che conquistano questa base così nasciamo qui mmm troppo tempo ma noi siamo i blu scemi scemo allora andiamo di qua dove siamo andati prima il cecchino è da sopra che sta facendo strage o non cade nell'acqua se muro eh no e che diamine questi cecchini rompono le scatole troviamo i blu e direi di andare dall'altra parte a questo punto non in faccia al muro andiamo a conquistare quest'altra base magari ecco qui bella protezione di questa qua non si parte bravo dai che ti vengono a dare una mano almeno iniziamo a prendere qualche punto che stiamo iniziando a perdere di parecchio stiamo sotto di tanti eh dai muoviti non abbiamo tutto il tempo qui nemici ce n'è uno e quell'altra lì ottimo ok eccolo là bam no voglio a questo di fronte no non ce l'ho fatto da arrivare diamine oddio quanti missili sono visto arrivare 3.000 missili no cecchino che diamine no stanno riconquistando la base abbiamo perso questa qui l'abbiamo persa guarda quello nell'acqua sparirà zi da qua niente non l'ho colpito questo perché torna indietro fin dalle armi forse ok abbiamo di nuovo questa bandiera però stiamo comunque perdendo maluoto andiamo a conquistare quest'altra base per non si arrependo qualche punto in più vai vai che scendo così velocemente ottimo dai altri punti oh chi cacchie qua sopra qua dietro qua da qualche parte eccolo oh ci ha distrutto non so erano in troppo no dove sono nato non lo so ho schiacciato a casa è quel cecchino da là che voglio far fuori dovevo fare anche questo mi sono incastrato non so dove distrutto vai no è di nuovo qui che cacchio è no network error va bene comunque abbiamo 8 8 8 punti vediamo se riusciamo ad acquistare qualche supporto migliore disposto a questi razzi io ho visto le minigun però adesso ne abbiamo 8 ben 8 dove ci stanno questi razzi qui fanno 12 di danno mentre io ho questi che fanno 16 fanno meno danno però questi sono quelli che curvano e ti colpiscono dall'alto mortai alto danno nell'aria infatti hanno impatto radius 30 mamma mia esagerato però 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 vediamo vediamo cosa c'è di bello anti gravity armor booster auto laser post automatic laser file ma io mi metto questi autocannon stand the shooter vai compriamoci questi autocannon non mi interessa abbiamo altri 3 punti che conservo sì perché non possiamo prendere niente e allora vediamo 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 buldiamolo allora possiamo mettere anche uno da un lato uno dall'altro come funziona poi boh non lo so acqua per eliminare va bene vai mettiamoli tutti e due e poi vediamo come funziona possiamo colorarli blu voglio fare tutto il carro blu perché i colori non mi piacciono voglio farli blu perché il rosso non è rosso è rosa guardate quindi effettivamente preferisco il blu ok questo è il nostro carro cerchiamo un'altra partita e testiamo la nostra nuova arma rank 4.2 proviamo vediamo prima di entrare giusto ecco se sono in planning se stanno giocando entriamo chiusate un po' per la vocesa ma sono un po' raffreddato in un asso chiuso quindi qui dobbiamo attendere un po' di meno ma almeno sappiamo che riusciamo ad entrare in una partita perché se stanno giocando significa che funziona mentre ci sono alcuni gruppi cui tu entri aspetti aspetti puoi aspettare fino all'infinito ma non entrerai mai in battaglia anche per questo questo video l'ho fatto mentre ero già in game anche se penso che l'arma che abbiamo preso con la faccia di drago non è che sia molto efficace e in partita ho incontrato anche uno che aveva un lanciafiamme cioè è mostruoso però solo se sei vicino al nemico se sei vicino al nemico ti colpisce un lanciafiamme la vita ti appassa in in un niente però giustamente devi arrivare vicino al nemico ci devi arrivare eppure devo comprarmi l'arma da cecchino si appena farò qualche punto devo acquistarmi l'arma da cecchino senza un pro di dubbio o magari un abitacolo migliore sotto che ti dà più protezioni non la so ma deve iniziare a fare punti si niente non va non va anche se ho detto che era sicuro però ecco perché quasi si riempita la stanza allora andiamo da questo 14-16 vediamo se stanno giocando si proviamo ad entrare qui beh il brutto di questo gioco è questo che devi attendere troppo per entrare in battaglia o almeno che mettessero un tasto di partita veloce tu schiacci è la prima in cui puoi entrare velocemente vai niente da fare oh è entrato ok a posto siamo in game vediamo un po' questa nuova arma ok siamo i rossi dove l'ho capito no non ho capito bene perché siamo i blu ok come funziona ah spanno tutti e due insieme è meglio mettiamo tutti e due i cannoni oh non è possibile questo ha messo due armi da cecchino sparo come il pazzo ma che abbiamo combinato prendiamo da dietro eh che diamine tutti questi cecchini non l'abbiamo presa voglio buttarmi termine delle armi grazie carica completata con cui siamo questa base era lì l'ho visto infatti lo vedo prendiamoci crudo oh siamo usciti fuori dalla porta oh eccolo qui bam in due l'abbiamo distrutto ok siamo in base una nemica non ci conviene perché all'inizio giustamente tu hai l'immunità ok entriamo da qui sì al centro della base siamo in vantaggio per adesso siamo in vantaggio non voglio cantare subito vittoria ma siamo in vantaggio andiamo a prendere questo scudo diamo una mano a cocosare la bandiera oddio sto cadendo giusto bam 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 spariamo all'impazzata 42 danni gli abbiamo fatto noo scusate per la tussa ma è l'influenza portami via che cacchio è qua che mi ha sparato ok amico bam bam è quasi morto noo è porca trota doppia arma da cecchino a questo vado qui perché qui c'è un nemico che sta arrivando eccolo qui bam distrutto a questo punto vado anch'io da qua cerco di aggirare il nemico vado a conquistare la base bam mamma mia quanti punti esperienza ho fatto bam distrutto ce ne è uno lì finiti i colpi il raggio gli fa 4 danni mentre il cannone di meno però finiti i colpi bisogno di colpi non passiamo da qua che è la base del nemico quindi hanno l'immunità all'inizio oh eccoli qui quelli qui ok prezi grande ha distrutto anche questo siamo in netto vantaggio mi sa che questa è la volta buona per prendere 3 punti oh che che bug non ci vedo niente che cacchio questi bug no stanno conquistando con la base dove sì questa bam spara all'impazzata senza guardare distrutto ottimo ah si è rubato lo scudo mettiamoci giù andiamo qua ecco il quello con il doppio cecchino non ho capito non ho capito nulla no stanno conquistando tutte le basi ci hanno raggiunto ah non devo mai parlare più ah che diamine stanno superando no cacchio dobbiamo conquistare le altre basi dobbiamo prendere questa qua dietro veloci veloci dai che abbiamo quasi vinto ok ce la possiamo fare vai no pazzarola per quanto abbiamo perso ho vinto porca trota va bene ragazzi vi ho fatto vedere un'altra puntata di clear up quindi io vi invito come sempre a venire su questo game almeno giochiamo tutti insieme riusciamo a fare un bello squadrone per poter almeno vincere e salire subito di livello guadagnare qualche punto quindi io vi ringrazio per la visione mi invito come sempre ad iscrivervi al canale la pagina facebook e magari anche quella di google plus da zerk è tutto ci vediamo al prossimo video ciao grazie ancora e alla prossima